Hai presente quando cominci a leggere qualcosa senza tante aspettative e poi ti ritrovi a leggere l'ultima pagina e dici cavolo ne voglio ancora? Questo è Gleipnir, manga pubblicato da Kodansha, tuttora in corso e portato in Italia da Panini Comics. Non ti nascondo che è particolarmente audace, con scene esplicite, sempre attente a non far vedere troppo ma nemmeno troppo poco, ma non è questo il focus. Il focus è la storia che racconta. Una ragazza trova per caso una moneta con incisa una stella e lì vicino un distributore di bevande con lo stesso simbolo. Quando introduce la moneta nel distributore esce un uomo che le racconta una storia incredibile e questa storia incredibile sconvolge letteralmente la vita di un ragazzo debole e sensibile che da un giorno con l'altro si ritrova capace di trasformarsi in una specie di mostro dall'aspetto tra il peluche e il grottesco. Trovandosi di fronte all'edificio in fiamme, il giovane Shuichi si trasformerà e salverà proprio la ragazza che era nella struttura per suicidarsi e da lì il loro destino si incrocia e si incrocerà con altri individui con le stesse capacità di Shuichi. Il tutto apparentemente per caso, ma qui non c'è nessun caso, perché l'uomo uscito dal distributore non era un normale essere umano e aveva pure uno strano potere, quello di esaudire un desiderio proprio grazie alla moneta su cui vi è incisa la stella. E a detta sua, chi raccoglierà 100 monete otterrà un enorme potere in grado di cambiare il mondo, realizzando i desideri più topistici o distopici. Ma per sapere come prosegue e come si sviluppa questa storia davvero incredibile, vai su starshop.it, metti il manga nel tuo carrello e inserisci il codice Crosstail, così da ottenere le spese di spedizione gratuite oltre al 5% di sconto già sul prezzo di copertina. Fidati, è una figata. Parola del re.